Passano, sei tu? Fatti vedere, sei tu? Fatti vedere, sei tu? Fatti vedere, sei tu? Fatti vedere, fatti vedere, sei tu? Fatti rispondere solo in ragazza o in ragazza, Passano? Fatti rispondere solo in ragazza, ragazza. Passano? Sei tu? Fatti vedere, fatti vedere, sei tu? Passano, non rispondere solo in ragazza o in ragazza, sei tu? Passano? Passano? Sei tu? No! No! Ma ora chiamo qualcuno, chiamo la vicenda! No! 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 La CIA! Rispondete Bassano? Presente! Chiamo qualcuno! Bassano? Si! Bassano? Si! Bassano? Bassano! 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 Si! Si sconoci alla ragazza ragazza! Bassano! Bassano! Presente! Sei tu? No! Chiamo Lemp BVI, chiamo!